ciao ragazzi allora vabbè perché questo video sentitola un seme per la vita perché oggi ho deciso che farò un gesto finalmente positivo ok perché perché dico finalmente positivo no perché io non abbia mai fatto gesti positivi in realtà va bene ho fatti però diciamo che per quanto riguarda la nostra terra o sempre un po sfruttato la nostra terra no senza mai darle amore ma amore vero ok perché io penso che anche l'agricoltura in realtà non sia poi questo grande amore verso la terra sia proprio sfruttarla no invece oggi voglio fare proprio una cosa proprio in onore della natura ok quindi guardate guardate che cosa qua vedete questa è una semplice ciliegia ok la ciliegia al suo interno voi tutti sapete che ha un seme no e quindi io adesso mi magno ciò che la natura mi ha dato no ok e la ringrazio per avermi dato questo buonissimo frutto e per ringraziarle ulteriormente siccome il seme era fatto per dar vita ad una nuova pianta ok e siccome io penso che sia giusto dar vita alla natura anche e soprattutto in quelle zone selvagge vedete mi trovo in un boschetto ok su terreno comune ok non comunale perché se fosse comunale ovviamente il comune l'avrebbe sistemato no sono su terreno comune comune ovvero di tutti quindi essendo comuni tutti io sono libero di fare ciò che voglio ok potrei mettermi lì a fare i miei bisogni potrei accendere una sigaretta buttarla da qualsiasi parte no io voglia per scatenere un incendio diventando piromani e invece cosa faccio adesso prenderò il seme e lo pianterò qua ok facciamo un bel buco prendiamo il nostro bel semino e lo mettiamo in terra e poi ricopriamo ovviamente tutto quanto è ho fatto fatica ragazzi ho fatto fatica mi sono dovuto alzare alle sei di mattina stando a degli orari impossibili per andare a coltivare un terreno spaccandomi la schiena no ho mangiato una ciliegia mi sono recato in questo bellissimo boschetto ho fatto un buco ci ho messo giù un seme chissà che tra cinque anni qua in questo boschetto non ci sia anche un bellissimo albero di ciliegie quindi ecco perché un seme per la vita questo video perché ho voluto piantare in un boschetto quindi terra comune un seme di ciliegia molto semplicemente chissà che magari da qui in avanti tra una decina d'anni non si possa passeggiare un po diciamo per i nostri paesi per le nostre città raccogliendo frutti senza dover andare per forza a spendere soldi al supermercato o spaccarsi la schiena nei campi e basta ecco volevo semplicemente fare questa cosa qua quindi un saluto e buon proseguimento di giornata ciao